ciao ragazzi bentornati sul canale oggi siamo di nuovo perché già avevamo fatto un paio di di chiacchierate ma poi lui interviene alla live dei collezionisti insomma siamo amici ormai da un paio di anni dai nerd insomma quindi dall'inizio della pandemia a Mauro del canale Italy Nerd ciao Mauro benvenuto ciao ragazzi ciao ragazzi buon un pomeriggio diciamo vabbè poi dipende quando vedrete questo video esatto esatto buona giornata buona giornata intanto vi volevo dire iscrivetevi al canale Italy Nerd uno perché è fighissimo e due perché senza che riraccontiamo tutta la storia insomma trovate i video in giro e però lui aveva un canale avviato ma gli hanno chiuso praticamente YouTube ha chiuso il canale senza nessuna motivazione cioè con una motivazione ma ovviamente totalmente infondata e e quindi è dovuto ripartire da zero assolutamente e quindi insomma se siete appassionati di cose nerd di action figure di di collezionismo e iscrivetevi al suo canale perché merita di recuperare gli iscritti che che aveva e poi andare ancora più in alto insomma questo mi sembrava carino dirlo insomma perché a me sta cosa ancora mi è rimasta qui tu dice a te figurate sì sì diciamo che ho un po' è un po' l'ho superata un po' l'ho superata proprio perché ho aperto il canale un altro canale alla fine alla fine dei conti hanno avuto ragione comunque loro perché nonostante ecco ora non per rimetterci a raccontare la storia nonostante due mesi quasi di lotta per riavere il canale che comunque più che altro non è stato per un discorso di numeri che comunque non erano chissà quanto alti ma era per un atto personale che ero diciamo affettivo affettivo e di tutto il lavoro che era stato fatto tra le interviste anche con te e le chiacchiere tutta una serie di contenuti che c'erano che erano come io dico sempre erano importanti ma non solo per me per il piacere di condividere la mia passione ma perché molti lo trovavano utile proprio perché c'erano tante informazioni che avevo lasciato in tre anni magari uno vuole recuperare un action figure sul tuo canale trovare la recensione esatto io così ho iniziato io ho iniziato proprio così all'epoca proprio appunto andando in giro e prima di acquistare andavo su youtube a cercare eventuali recensioni in italia o all'estero eventualmente unboxing vari per avere delle informazioni e video un po più specifici del prodotto che volevo acquistare quindi l'intento era quello poi è andata come è andata e alla fine poi vabbè ho aperto quest'altro diciamo quest'altro canale non riesco purtroppo per ora almeno a caricare gli stessi contenuti a livello numerico proprio dell'altro però comunque man mano diciamo stiamo ritarburando esatto uno recupera e quindi come procede questo collezionare le action figure perché io ho sempre detto che collezionare action figure in italia e tra l'altro tu sei molto coraggioso nel senso collezionare action figure in italia è fighissimo ma siamo in pochi quando dico in pochi rispetto a paesi come che ne so la francia l'inghilterra gli stati uniti il giappone dove tutti collezionano state figure eccetera eccetera da noi siamo pochi e aprire un canale che parla prevalentemente di action figure di collezionismo statico e non è una bella sfida in italia sì come abbiamo detto tante volte anche in tantissime trasmissioni il discorso parte dal dal cosa io lo dico sempre parte dal cosa si vuole fare in generale a parte con la propria passione ma dove bisogna sempre stare attenti al discorso economico e di spazio ma andando oltre il discorso è capire che cosa se si vuole fare del proprio canale io ho sempre detto per quanto riguarda questo tipo di tema di almeno all'inizio di aprirsi il canale semplicemente per scambiarsi informazioni e per portare semplicemente agli altri la propria passione questa è la cosa principale poi il discorso statistico io l'ho sempre messo dopo nel senso sì sono andato ovviamente a vederlo ogni tanto ma giusto per senza diciamo attaccarmi andare troppo ad evidenziarlo proprio per questo motivo perché in italia ovviamente come ben sappiamo è vero che rispetto a 15 anni fa ci siamo aggiornati però ovviamente siamo ancora molto lontani dalla cultura come dicevi tu poco fa rispetto all'europa e poi vabbè rispetto alle altre due grandi superpotenze che sono appunto da una parte l'asia o comunque il giappone e dall'altra parte l'america perché la ovviamente ci sono le principali case di produzione delle figure che noi acquistiamo che siano piccolate o statue e quindi là non non si può mai fare la il paragone però anche con tanti paesi europei purtroppo a livello proprio culturale noi siamo ancora un pochino indietro quindi sì diciamo che l'aprirsi oggi un canale youtube a tema proprio specifico di action figure sicuramente non è semplice non è semplice se sempre se però nei propri obiettivi c'è il discorso di fare numero subito di fare subito di salire ecco di salire subito non è facile non è facile io con l'altro canale in tre anni comunque con tanto lavoro dietro ero riuscito ad arrivare a un numero abbastanza buono 800 iscritti più o meno che non erano tanti però non erano nemmeno pochi per tutto quello che avevo prodotto in quei tre anni l'altro ci sono state comunque delle soddisfazioni che ho avuto appunto come dicevo prima per le interviste per le chiacchiere per tutta una serie di contenuti che siamo riusciti a portare sul canale però non è ecco se si vuole fare oggi un creators di un canale proprio di action figure a meno che come dico sempre non sei già il figlio di Berlusconi e che quindi hai già tutte le le amicizie che ti servono per salire non è facile non è assolutamente facile proprio perché è ancora un po di nicchia questo però secondo me se aprono altri cento canali che parlano di action figure allora a quel punto secondo me la gente si accorge di questo movimento è ovvio che se siamo pochi e poi sai qual è secondo me il problema di chi colleziona action figure è che siamo meno in Italia ma soprattutto di quelli che collezionano action figure solo una parte va su youtube quello è il problema perché io conosco tanta gente che colleziona statue action figure è ma non va su youtube non guarda i video di youtube beh ci sono diversi allora ci sono di partenza dobbiamo ricordarci anche che nell'ultimo periodo come dicevo proprio dissi proprio martedì anche martedì sera nella tua trasmissione la cultura generale sta iniziando ad arrivare la cultura nerd delle action figure sta iniziando ad arrivare in Italia anche dal punto di vista proprio della compravendita quindi come dicevo prodotti del genere Funko Pop ovviamente le iniziamo a trovare anche in posti dove prima era impossibile trovare ecco dai tabaccai nei supermercati però il pop perché è una cosa veramente virale che la vogliono pure i ragazzini capito invece l'action figure è vista più con sospetto diciamo che il discorso è che è ancora allora o i pupazzi come li chiamano quelli che ci vogliono male io perciò io perciò parlavo ancora di cultura proprio perché in Italia c'è ancora una buona parte di persone prettamente diciamo a tutti che non vedono in questi prodotti una vera cultura ma vedono ancora il discorso famoso dei giocattoli che è inutile che ti compri questi giocattoli che costano tra l'altro anche tanto rispetto ai giocattoli che stanno nel negozio di giocattoli questo è il discorso però probabilmente se alcune serie tipo black series marvel legends eccetera eccetera per esempio se entrassero stabilmente nelle grandi distribuzioni tipo li trovassi stabilmente da carfour da loro abbasserebbero i prezzi si troverebbero a un prezzo in america da walmart da target li trovi a due soldi cioè rispetto all'italia perché perché una catena come walmart se compra le action figure riesce a uscire a un prezzo molto più basso e quindi sarebbero accessibili anche più facilmente a tutti sì sì assolutamente questo è un discorso che già da un po' di tempo facciamo e probabilmente è un discorso anche burocratico nel senso che le società le aziende italiane magari hanno avuto anche la richiesta di poter fare una collaborazione o qualcosa del genere però ad ora non è stata ancora accettata penso non mi viene non mi altre ipotesi ad ora non mi vanno oggi non mi vengono perché ripeto in Europa questo discorso qua già si fa non so perché nel nel nostro specifico paese non si è ancora andato in non si sia ancora attuato questa cosa però voglio bene i negozi di settore però ovviamente il negozietto di settore che compra tre figure due figure per il suo negozio esce a un prezzo che è molto molto più alto eh di quello che si troverebbe in giro mentre se uscisse la grande distribuzione secondo me il prezzo sarebbe più abbordabile l'Italia io me lo sono chiesto più volte me lo sono domandato probabilmente l'Italia eh predilige eh altri altre altri altre strade per diciamo far crescere ancora il proprio paese ecco a tema nerd io proprio qualche settimana fa parlavo in un'altra trasmissione parlavo proprio del del discorso che in sempre più negozi però di abbigliamento ho notato eh sempre più maglie a tema nerd sempre più t-shirt eh sì quindi questo significa che almeno dal punto di vista degli store di vestiario quindi che vendono comunque abbigliamento c'è questa questa cultura quindi la cultura in quel campo là si è un po' evoluta perché quasi tutte le tutti brand hanno iniziato a fare anche se in piccolo la parte è dedicata al nerd quindi troviamo magliette sui film magliette sui cartoni sempre di più ne troviamo eh quindi almeno in quel settore là l'Italia ha accettato la cosa poi è ovvio che molti brand sono esteri e vengono in Italia a vendere eh infatti quello è il problema che magari ce l'hanno la linea perché la fanno per l'estero dicono sai che c'è un po' di cose le portiamo pure in Italia ovviamente quindi però va bene tutto ah beh certo poi per il discorso che dicevi poco fa che ci sono tante persone tanti collezionisti che eh che collezionano action figure ma che non contribuiscono diciamo al girare la alla passione eh sì eh beh probabilmente è per due motivi su tutti uno è il non volersi prendere la responsabilità di aprire un canale eh il poi il non voler far vedere la propria collezione e tenerla riservata ovviamente e e poi come molti mi hanno detto quando io ovviamente sono andato da queste persone a dire ma perché non condividi anche tu la collezione altro e loro non si sono voluti esporre quindi eh alcuni mi dicevano no io non so non so parlare non so fare un discorso non so stare avanti le telecamere eh però non lo so però sai io dico sempre che è registrato quindi eh tu lo rivedi se ti piace anche perché se lo fai a spezzoni e questo è un consiglio mio ovviamente cioè nel senso che se tu riprendi dieci dodici minuti in una recensione c'è qualcosa che non ti fa poi devi andare a a girare di nuovo quel pezzetto da inserire un po' più complicato se tu la dividi in in vari pezzetti tipo che ne so la presentazione fai vedere il box la scarti fai vedere la figure già fai cinque se uno di questi blocchi non ti sei piaciuto rifai quel blocco capito dico non è che è una live quindi hai possibilità di rifarla pure dieci volte finché non ti piaci e poi io dico ma quando tu hai cominciato hai rispigliato bravo cioè io vedi i miei video all'inizio stavo seduto sul letto non sapevo che cosa dire le luci non ce le avevo che vedo quindi intanto parti e fai numero e poi viano piano migliori sì no 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 io ammetto e capito tante volte di andare sugli hard disk dell'epoca che avevo se ti ricordi noi parlammo proprio tu mi chiedesti l'anno scorso ma tu sugli hard disk non hai salvato i contenuti che hai perso e io li avevo salvati io fino a un certo punto li salvavo ancora poi da un punto in poi facevo troppe contenuti e non riuscivo per provare proprio di spazio riuscivo a salvare tutto però ogni tanto mi è capitato di tornare ai primissimi video che che fece all'epoca e si vedeva la differenza rispetto a però non è che però non è un'unta cioè nel senso chi apre un canale non si deve sentire eh però guarda che ne so guardo il canale più grande madonna quanto è bravo io non so così bravo ma il canale più grande che poi non parlo manco di me io parlo dei canali cioè io quando guardo i canali da ogni tanto mi capita di guardare che ne so dei canali da 23 400 mila un milione e tu stai io sto così e dico wow guarda che inquadra tu guarda in montaggio guarda che capito e però è bello perché dici ok punto e voglio arrivare pure io lì capito non è che mi dimoralizzo anche queste persone iniziato così nel senso nessuno ha fatto un primo video già come se fosse geniale certo esatto quello è il discorso e però penso che ci sono alcune persone proprio che non hanno la voglia di farsi proprio vedere e quella la mia sensazione anche perché io anche conosco diverse persone forse sono un po' grandicelle forse proprio per questo non vogliono non vogliono condividere perché perché poi dice al lavoro gli amici eccetera eccetera mi vedo che parlo dei pupazzetti su youtube e mi prendono in giro capito però è però il problema è che se youtube fosse invasa di canali anche di adulti grandi che parlano di giocattoli di action figure e poi la gente non ti prenderebbe più in giro perché perché non sei più quello che loro ritengono è capito diciamo aspetta qui ce ne sono una valanga forse so io che sto sbagliando a criticare ma sì io ripeto rispetto magari a una quindicina d'anni fa io comunque per quanto ripeto da una parte l'italia non si è ancora aggiornata come tanti altri paesi però comunque c'è stato un salto anche qua quindi io mi ricordo che veramente tanti anni fa non c'era nessuno c'era poca pochissime persone forse nemmeno su una mano si riuscivano a contare oggi invece già siamo siamo un bel gruppetto non enorme però siamo già un bel gruppetto è aumentato però conosco tanta gente anche che segue il mio canale che mi dice mi piacerebbe vorrei aprire un canale nerd parlare di eh vabbè ci sto pensando ma e quindi io dico sempre fallo sto sfo fallo il salto prova te butti quello che succede succede anche perché ma chi se ne frega cioè anche perché parliamoci su youtube c'è anche tanti tanti contenuti eccezionali molto meglio di me di te eccetera eccetera ma c'è anche tanta monnezza quindi se tu fai esci esatto quindi se tu esci con un canale carino educato e poi se sei un po' impacciato se la luce non è perfetta eccetera eccetera sarà sempre meglio di contenuti pessimi che si vedono su youtube ma indubbiamente io penso che dato che comunque bazzico un po' su youtube in generale posso dire con assoluta sicurezza che mi farebbe piacere vedere il settore diciamo nerd o specifico sull'action figure un po' più diciamo in giganti un po' più grande eh dal punto di vista del bacino di persone perché poi ci sono altri settori che fanno gaming sono due milioni capito ci sono tanti altri settori che sono stracolmi di di creators eh di cui la metà secondo me si può si può anche togliere esatto poi la gente non ha capito che se ci so dieci canali ok noi ci passiamo gli iscritti ci facciamo le collaborazioni e ci passiamo iscritti fra dieci canali se i canali diventano cento eh tu cioè fa bene a tutti perché eh ognuno pesca da dai suoi canali dai capito c'è uno scambio di di iscritti di esperienze di cose e secondo me viene una cosa fighissima sì sì io io sono sempre stato del tu lo sai sono sempre stato dell'opinione del del lavorare insieme ma proprio ci abbiamo anche provato Mauro ma forse anche perché io nasco sempre con eh con quel con quel pallino del semplicemente condividere la passione non non ho altri obiettivi per esempio io ho spesso notato ma non in questo settore ma in altri settori che c'è tanta competizione a volte proprio veramente forse anche troppa eh c'è la corsa a chi fa meglio quel contenuto a chi lo a chi lo pubblica prima eh tutta una serie di cose che non sono positive ovviamente sono sono negative non so se sarà il caso anche di questo settore però eh io ho incontrato tante brave persone eh e sono contento in realtà di stare in questo settore proprio perché ci sono tante brave persone in questo nel settore nerd e forse qualcuno diciamo eh ha un po' questo spirito della 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 competizione sul sul che la sana competizione va bene sì sì eh 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 e fa se ne è una malattia che non va bene cioè nel senso vabbè questo per tutto eh appunto cioè siamo a parlare di giocattoli siamo a parlare di fumetti siamo a parlare di quindi c'è uno lo fa con poi io non lo so secondo me è bello farlo insieme io questo ho sempre pensato è più divertente capito che te fa in canale da solo parli da solo e quindi infatti siamo qui oggi apposta proprio perché per condividere questa rimbogliare anche esatto esatto e io ho sempre detto nel mio nel mio piccolo chiunque apre un canale io sono qua cioè se vi serve un consiglio una dritta un un parere eccetera eccetera eh sono qua e quindi penso pure tu insomma quindi assolutamente fate affidamento emiliano uguale in emiliano 74 quindi eh assolutamente è così io non mi ricordo nelle nostre chiacchierate ma tu preferisci le action figure oppure le action figure statiche eh che non si articulano ma in realtà nella collezione è un po' tutto nel senso che ecco una cosa che dico spesso io non so se se questo è un pregio o un difetto il il fatto proprio che a me piace mi piace mi piacciono troppe cose non non riesco non riesco a stare semplicemente dietro magari a due o tre cose ma proprio perché ho tante la mia passione va un po' in tanti in tante in tante sezioni a parte dal cinema a parte dei cartoni tanti cartoni eh italiani giapponesi americani eh dal punto di vista dei pezzi anche la stessa cosa diciamo che l'unica differenza che c'è e questa è una cosa sicura è che sicuramente io prediligo eh tutti i prodotti che sono più o meno intorno ai sei pollici questa è una cosa che dico spesso infatti ne so di più sicuramente dei prodotti di sei pollici rispetto magari alle hot toys alle statue resina ne so qualcosa ma non ne so tanto quanto questo è qua proprio perché io colleziono prevalentemente diciamo le cose in scala però le collezioni sia articolate che ci stesse seguendo e non capisse stiamo parlando tipo marvel legends per avere un'idea black series esatto esatto misto un misto di dipende proprio perché sono dividersi brand diciamo 15 16 centimetri sì sì di solito dai 15 ai 17 anni eh sì farlane neca eh alcune che non ci poi ci sono le black series eh ci sono a case nuove tipo ecco questi sono l'occhi d'occhi poi ci stanno eh le mezco è un po' un po' miste però tutte quante diciamo restano su quel tipo di scala che è anche più facile da da stoccare eh sì esattamente è più facile sia dal punto di vista economico e sia dal punto di vista anche degli spazi perché ovviamente diciamo che è alla portata di tutti sì la marvel legends è una cosa è la portata di tutti marvel legends sì le marvel legends quelle la diste le black series sono produttive fondamentalmente non ti non ti chiedono tutto quel diciamo quel cacciare eh soldi così come se fossero ecco tipo toys se queste fossero tutte toys sicuramente i problemi sarebbero stati tripli eh anche dal punto di vista espositivo perché ovviamente parlavamo di di prodotti molto più grandi vero vero assolutamente quindi eh ma tu proprio personale articolate o no? Che poi tu le prendi da tutte è un altro discorso? Ad esempio io dopo anni sono arrivato che preferisco articolate? ma non non ti so dire nel senso ti ripeto perché ti puoi mettere le pose e poi sì no allora sì su questo sì indubbiamente eh andare a prendere un prodotto articolato ti permette di eh magari di un mese lo posi in quel modo un mese dopo lo posi in un altro modo questo indubbiamente è è è il pro diciamo di eh di avere un prodotto articolato anziché una statica eh poi c'è Bandai che ogni tanto esagera che ci fa 623 articolazioni su un sì eh sì la Bandai va bene poi ci sta un ampio discorso da fare in base al brand ovviamente che produce quel tipo di prodotto perché ci sono brand e brand ci sono brand che fanno sicuramente cose di qualità ma che eh esagerano un po' con i prezzi perché ecco tu hai citato probabilmente quella che è più eh tra tutti i brand quella che più sta un po' esagerando col calcare diciamo la mano col portafogli delle delle persone che vanno a comprare perché io colleziono Bandai dal 2011 eh ha fatto un salto diciamo in dubbio di qualità questo è fuori fuori dubbio però ha ha iniziato veramente a esagerare molto molto si è molto gonfiata con i prezzi e come dicevo anche martedì sera eh parte del dei prezzi che vediamo oggi sono semplicemente dati dal fatto che c'è lì il logo di Bandai e non perché si sta andando a pagare veramente il prodotto che stai vedendo certo quello discorso a differenza di altre case come appunto hai citato tu poco fa la Black Series o o anche eh le Marvel Legend e altro che comunque continuano ad alzare la qualità perché anche loro hanno alzato il livello di qualità da diciamo però restano diciamo su un tetto eh economico che va che va bene eh prezzi beh lì c'è dietro Asbro che comunque è una multinazionale di giocattoli e quindi sa che se si tiene troppo anzi adesso sta provando con con secondo me con questa serie di Indiana Jones sta provando ad alzare il tempo speriamo speriamo eh io su Indiana Jones ho tante aspettative perché anzi non vedo l'ora perché purtroppo di Indiana Jones c'è poca roba c'è proprio poca roba in giro a parte eh quei prodotti che tu hai in collezione ma sono piccolini se non sbaglio sì sono eh sono più piccoli eh infatti c'ho il camion e vanno seduti dentro il camion eh eh spero spero di eh sì poi si passa direttamente a Hot Toys di Indiana Jones esatto non abbiamo purtroppo diciamo la la fascia intermedia quello è il discorso speriamo di di vedere di vedere qualcosa però penso di sì penso da da almeno da quello che ho visto in foto sembrano prodotti abbastanza qualitativamente buoni e sì anche perché ti accorgi dalla scatola che hanno si sono avvicinati cioè hanno fatto un prodotto tipo Black Series capito e quindi stanno cercando di di alzare la qualità e tirare fuori un prodotto buono per anche perché Indiana Jones se lo merita come brand di avere un prodotto di qualità eh poi esce il film nuovo c'è quattro film su cui su cui a cui pescare eh quindi che cavo la voglia eh ha voglia prodotti da fare o eh sì ma la stessa cosa non mi avrebbe sorpreso se magari Indiana Jones l'avesse prodotto la Nega la Nega per esempio è da un bel po' di tempo che sta accelerando con varie produzioni e e sta facendo molti molti si sta concentrando su molti film eh l'ultimo per esempio che io ho preso della Nega è quella è Robocop che tra l'altro in molti abbiamo recensito diciamo sui canali il il Robocop che in doppia versione ha fatto sia diciamo quello là normale questo qua diciamo fascia intermedia un po' per tutti questo qua che è molto molto bello e ricorda il il vecchio Robocop della diciamo di eh non ricordo ora se era sempre dello stesso mi sembra McFarlane McFarlane eh ok del McFarlane ce lo dovrei avere su eh e e poi ha fatto un'altra versione deluxe diciamo con tutto il laboratorio particolare ovviamente proprio per chi voleva esagerare diciamo però sta facendo tante cose la Nega eh poi si si sta la Nega un po' come altri brand qualcosina la sta iniziando a fare esclusiva come ti raccontavo martedì e purtroppo alcune cose diventano di difficile reperibilità quando i prodotti sono esclusivi eh ti devi affidare o a qualche amico che magari va a fare un recupero in America in patria delle di di copie oppure devi aspettare qualche santo che ti aiuta e che ti ti importa il prodotto ad un prezzo diciamo umano però secondo me Hasbro secondo me si è fatta un calcolo e ha detto ma perché devo farmi sfuggire la possibilità di fare una sei pollici e darla alla Nega ma me ne faccio io eh scusa faccio il Black Series faccio le Marvel Legends a sto punto mi faccio mi faccio pure io le figure e provo ad alzare il tiro infatti guarda questa è un'idea che mi sono fatto secondo me nel giro di un anno due anni eh la la Hasbro potrebbe tirar fuori la sua linea con con i con i vestiti in tessuto sì con le plot non è non è improbabile oggi ci sono tante case che stanno approfittando eh di di usare anche questo tipo anche la Nega se non sbaglio è proprio la Nega già da un qualche anno anzi forse tre anni più o meno eh fa uscire in contemporanea lo stesso prodotto però sia in pvc che con che colla clotto in base ovviamente al collezioni al diciamo all'esigenza tu quale preferisci io per ora sto comunque continuando a comprare un pvc ok però qualcosina in formato clotto ce l'ho perché però si è fatta bene con i vestiti e tanta roba eh sì no io io se ricordi feci vedere in in qualche tua non martedì ma in qualche trasmissione precedente forse tre quattro settimane fa feci vedere il fantasma dell'opera sì della sideshow quello là però sempre scala sei pollici e quello era proprio bello con il vestito in tessuto era fatto veramente bene poi per esempio ci sono ecco io ho avuto sempre difficoltà a recuperare un silvestre stallone perché sempre per lo stesso discorso che prodotti troppo vecchi e costano tanto se li trovi e ho trovato l'amico che fa questi prodotti qua solo in tessuto li fa e sono carini fondamentalmente sono otto pollici l'unica l'unica cosa diciamo è questa quindi sono un po' più grandi sono qualche centimetro più grande rispetto agli altri però nel senso poco poco conta eh se uno non è proprio fissato eh e poi i prezzi sono sono accessibilissimi queste qua e sono sempre in tessuto sono sempre in tessuto io ho preso la mego le ha sempre fatti in tessuto anche quando li faceva negli anni settanta che faceva i supereroi erano tutti in tessuto insomma quindi sempre così e sono belli secondo me sono carini io poi ho pescato dal cilindro questo non sapevo eh che era anche un'edizione limitata eh della del pianeta delle scimmie però del primo pianeta delle scimmie ah ho preso ho preso Taylor il appunto il protagonista l'interpretata interpretata da Charlton Heston eh sì eh del primo film e c'è scritto che è un'edizione limitata e non lo sapevo l'ho preso ed è infatti è chiusa quattro esatto in questo caso vedi come ti diceva come diceva certo edizione limitata 442 di mille eh e di questo per esempio eh di di Taylor ecco qua di di Taylor per esempio non non c'è nulla non non esiste niente in sul mercato che o quella o quella o per ora sì per ora c'è soltanto quella là poi la nega ha fatto qualcosa del pianeta delle scimmie ma riferita agli ultimi film del pianeta delle scimmie quelle degli anni duemila diciamo sì è vero è vero che non me casano come forse il protagonista ma non non me fanno un pazzi insomma come niente di che non sono stati film memorabili insomma quindi eh e tra l'altro eh secondo me un altro passo avanti per sdoganare questo tipo di collezionismo in Italia visto che è stato fatto da un brand potentissimo è l'apertura di Asbro Pulse quindi la vendita diretta di Asbro sul suo canale principale quindi tanta roba sì 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 assolutamente ci sono delle case che stanno iniziando ad avere queste iniziative che secondo me sono utili e per loro stesse e per diciamo appunto i collezionisti che hanno almeno qualche siccome già ci sono tanti problemi nel settore collezionistico come dicevo poco fa c'era il discorso delle edizioni limitate le esclusive che purtroppo per tutta una serie di motivi eh non dà a tutti i collezionisti di avere quel determinato prodotto eh è giusto che ci sono delle iniziative che danno la l'opportunità diciamo un po' a tutti di arrivare ad alcuni prodotti ma soprattutto sei sicuro nel senso che se vai dalla fumetteria per quanto o se vai su amazon non è detto che la preordine poi gli arrivi assolutamente nel senso perché è capace che aprile l'asbro gliene manda di meno e la la magari amazon ha preso che ne so 100 preordini però asbro gliene manda 60 e quindi 40 li devono annullare capito mentre se compri direttamente da asbro e sei sicuro che quello è suo e c'è no no ma a me questo è capitato anche con molti fornitori mi è capitato di magari di prenotare dei prodotti e di avere poi eh dagli stessi fornitori una risposta fortunatamente non sempre però alcune volte mi è capitato di avere una risposta negativa con un messaggio e mi diceva guarda ci dispiace purtroppo la casa ci ha dato meno numeri meno meno copie certo è certo quindi purtroppo infatti punta proprio su questo asbro pals dice se qui sei sicuro che se la prenoti ce l'hai perché siamo noi e quindi cioè se la prenoti ce l'hai sicuramente sicuro se c'è c'è esatto esatto e ma se dovessi dire la un paio di cose le più belle che hai comprato nel 2022 belle nel senso che piacciono a te è quindi c'è quelle che che proprio volevi che t'hanno colpito il cuore nel 2022 ma ma che no che proprio volevo no però che mi hanno colpito sicuramente ci sono diverse diciamo diverse diverse nega dei recuperi sono stati più che altro è nel senso non tanti non tanto delle uscite novità certo quest'anno perché poi diciamo la mia fortuna è che sto ormai sto al passo con con quello che esce quindi delle cose uscite proprio negli stessi anni non è c'è tantissime c'è tantissima roba più che altro sono i recuperi che ogni tanto vado vado a prendere sempre se ovviamente sono recuperi fattibili a cifre sì perché alcuni recuperi purtroppo io per esempio ultimamente sto cercando come tu sai alcune movie maniacs alcuni pezzi che sono molto pregiati perché parliamo di prodotti del 2005 2006 trovarli quasi a 20 anni qualcosa pure più più io c'ho la la barca della McFarlane c'ho la barca con lo squalo con la barca che affonda così esatto parliamo di anni 90 quello là sì ormai è diventato un pezzo ultra raro e che seppure lo trovi in vendita costa veramente una cifra astronomica però ecco parlando appunto di recuperi c'ho qualcosina dall'altra parte che non ho qua però io ti ho portato un paio di recuperi va bene robocop mi è andata bene perché poi appunto è stato è stato ristampato e quindi mi è andata bene altrimenti stavo sempre dietro a quello la famoso che costava tanto ma anche perché scusa ma so giocattoli tra virgolette cioè sono quindi ma perché non li devi ristampare cioè perché non devi dare la possibilità a tutti c'è anche chi è giovane oggi un ragazzo di 15 anni che è giovane oggi che negli anni 90 o agli inizi 2000 non non era troppo piccolo per comprare un action figure adesso non è che panna spende cifre astronomiche ma guarda fino a qualche tempo fa fino a qualche tempo fa c'era una voce che girava voci di corridoio che giravano che dicevano che determinate case non producevano alcuni personaggi perché non volevano svalutare i vecchi prodotti che erano usciti che da un punto di vista pratico è vero nel senso che se tu fai uscire lo stesso identico personaggio ed è quello che è successo con robocop ma se lo fa la hot toys però con figure da 400 euro che adesso ha ristampato infatti e infatti proprio per questo motivo poi molte case vedi la neca vedi altre hanno iniziato a ristampare anche la banda è stessa ma se sono accorti che è una cavolata su è infatti no ma anche perché vendono quindi alla fine non ha ma perché ci sono nuove generazioni che cercano quel prodotto e che non vanno a spendere due trecento euro per una sei pollici vecchia capito è no ma io per esempio una cosa che ho detto a dei ragazzi ma ragazzini di 15 16 anni proprio qualche settimana fa che erano disperati perché c'è stato questo prodotto di cui del San Diego Comicon di quest'anno che era stato ovviamente portato poi a Lucca Comics bandai prezzo partenza 2 50 allora io ho detto ragazzi non vi preoccupate perché intanto un ragazzino di 15 16 anni non è che scende di casa e spende 250 euro ma non so nemmeno se ce li ha ma il discorso il discorso però è che gli ho fatto ragazzi non vi preoccupate perché fortunatamente la bandai sono un paio d'anni che ha capito che è inutile conservarsi i prodotti ma perché tanto li vendi comunque e quindi tra qualche anno uscirà lo stesso identico personaggio magari con qualche repaint diverso proprio per perché ha voluto ha cercato basta cambiare anche la confezione capito sì 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 ha cercato di non svalutare i vecchi però riproponendo comunque anche per le nuove generazioni lo stesso personaggio ma ci sono mille modi per fare una ristampa che sia leggermente diversa da precedente in modo da differenziarle da fare due prodotti diversi assolutamente una scienza certo comunque tornando alla domanda che mi hai fatto tu a parte il sobocop ci sono stati appunto due recuperi che ho fatto di cui non esistono prodotti almeno nel recente diciamo tempo poi forse le ristamperanno più avanti questo è certo e ho recuperato questi due pezzi beatle juice beatle juice e edward belli questi qua io li cercavo da tanto veramente tanto tempo perché comunque sono fanno parte della storia del cinema e quindi entrambi tra l'altro prodotti film degli anni 80 quindi film un bel po' datati e anche i pezzi proprio gli stessi pezzi anche perché questo qua è del duemila ma è McFarlane questo qua è proprio del del duemila questo qua è McFarlane sì esatto questo invece se non era ancora statico ma è un semistatico nel senso che acqua non erano molto articolate esatto no ha qualche leggera articolazione quella ma tra l'altro l'articolazione di taglio nel senso nemmeno pensata bene quindi però le gambe ce l'hanno di articolazione di ginocchia no le gambe è tanto all'anca esatto è tutto un blocco esatto è come faceva prima la McFarlane sì 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 ma la stessa cosa vale per questo è la stessa cosa è tutto statico tranne qualche piccolissima articolazione qua però devo dire che lo scouting era tanta roba però lo scouting tanta roba esatto lo scouting è fatto veramente nonostante vent'anni e passa in realtà perché questo qua non ti so dire penso sia sempre 2004 2005 questo 2000 però comunque nonostante tanti anni devo dire la verità rispetto a tanti pezzi che io vedo attualmente non hanno assolutamente niente da da niente in meno dal punto di vista dello scouting veramente sono tanta roba e quindi questi qua diciamo mi ricordo un'intervista a Todd McFarlane dove lui diceva in tempi antichi diceva noi riusciamo a fare questo perché un intervistatore gli chiedeva come fate a fare queste figure che sono le più belle perché il McFarlane erano le più belle come scouting painting eccetera erano le più belle e lui disse perché noi abbiamo uno specialista per le mani uno specialista per i volti uno specialista per i busti non è lo stesso personale non è lo stesso scultore che fa tutta la figure perché non è detto che lo stesso scultore sia bravissimo con le mani e poi magari non è capace a fai i volti dice quindi noi ci abbiamo cioè ogni figura è fatta da quattro e cinque persone diverse ecco perché poi il complesso il totale viene viene bellissimo beh ma comunque è una politica seria di una casa seria quello è il discorso peccato che la McFarlane purtroppo nel nell'ultimo diciamo decennio se ne è un po' è un po' calata anche dal punto di vista produttivo oggi io continuo a comprare McFarlane adesso però è un po' risalita con DC e Fortnite avatar DC fortnite infatti io proprio penso che arriverà volevo farli vedere per la fine dell'anno perché ora il 31 ovviamente mattina farò uscire il video di fine anno con tutta la collezione e mi avrebbe fatto piacere farli vedere ma purtroppo mi hanno detto che arriveranno a inizio gennaio ho preso tutti i personaggi della justice league della McFarlane in un lotto ovviamente ho trovato una buona occasione e li ho presi tutti insieme e non vedo l'ora che arrivano perché sono fatti bene quelli là io l'ho visti tante volte in tante collezioni di persone e sono veramente fatti bene sono belli io non c'ho niente di DC comics di figure però da quando l'ha preso McFarlane ce ne so alcune ci so delle variante di Batman che sono una cosa strepitosa insomma quelle strane quelle particolari e magari ci sono diverse io ma anche c'è un Batman blu Batman ho visto delle cose stranissime bellissimi ma anche questi per esempio anche questo qua io io sono diciamo amante della serie animata di Batman si questo qua da una persona che se lo toglieva io cercavo un Batman della serie animata ce l'ho una statua della di Batman però volevo un articolato appunto quando appunto tu mi chiedevi preferisci quello quello e appunto ho preso questo qua che è molto bello aveva anche un dioramino dietro però per me non è un problema che non diciamo non c'era più questo dioramino lo metto su una basetta che già ho e poi il discorso Batman invece della Justice League in realtà è stato un caso perché io la DC l'ho seguita diciamo tra gli anni 80 e 90 quindi poi in realtà è un po' scomparsa un po' dagli schermi in generale per tanti problemi che ci sono stati poi c'è stata la Marvel che ha proprio il Marvel Studios che hanno proprio annientato la cinematografia DC però poi che è successo che un amico a un certo punto mi ha detto parlando proprio in un video di questo confronto tra DC e Marvel un confronto storico tra DC e Marvel mi ha detto ma ma tu l'hai visto il film della Justice League e ho detto guarda in realtà no proprio per questo motivo che sono gli ultimi film che vidi della DC veramente erano forse targati fine anni 90 con classico Batman tutti gli altri forse massimo fine 2000 al massimo poi mi ero perso con i film della DC e invece poi sono andato a recuperarmi questa questo film della Snyder Cut completo quattro ore di film della e dopo dopo due giorni dopo ho iniziato a comprare i personaggi i personaggi della DC presi gli antagonisti prima Darkseid e l'altro diciamo di cui non ricordo mai il nome quell'altro personaggio particolare con la con la forma tipo squalo martello che ha quel viso è molto molto bella quella quella figura la li trovai quasi subito e anche di quelle ci sono due due versioni di Darkseid una corazzato che è molto bella e una diciamo un po' più annudo molto belli e poi ho trovato appunto questi questo lotto di tutti i pezzi da mettere insieme agli altri due e quindi ho creato questa piccola vetrina di DC film certo no 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 ma stavo pensando ai ai recuperi che c'è sempre qualcosa da recuperare c'è sempre qualcosa da che c'è sempre qualcosa che recuperi in pezzo e tu dici ho finito con quel pezzo no perché ogni pezzo che recuperi apre apre scenari capito cioè ogni volta che recuperi in pezzo ti fa venimentarsi dieci pezzi da recuperare guarda io ti dico soltanto che allora io tra tra ieri sera anzi tra la nostra chiacchierata di di martedì e stamattina eh ho preso un et da mettere sempre nel reparto diciamo cinema che lo stai stampando per i per i quarant'anni o stai stampando Mayfer Lane? Eh Budart no ma non quello gli ho preso poi forse ma me lo prenderò anche però l'ho preso da penso sia una vecchia casa di giocattoli perché poi non non conosco eh però mi interessava per la scala sempre per il discorso famoso della scala da metterla poi ho preso eh questo personaggio di Bruce Willis eh in Sin City sempre un prodotto ce l'ho eh Artigan eh il prodotto io c'ho lui e e lei perché lei lei Jessica Alba Jessica Alba ce l'ho vestita da cowboy col da cowboy eh classica scena dell'epoca eh poi ho preso eh ho recuperato la stato del padrino che pure mi che pure mi mancava eh sempre sei pollici poi eh ho preso un un da tua light perché ho detto vabbè alla fine posso mai nella teca cinema posso mai farmi mancare il personaggio di tua light ho preso un Edward Cullen giusto da mettere da mettere vicino come rappresentante certo come rappresentante dei tua light eh sì mi sembra giusto e invece che che cosa aspetti per questo 2023 a parte quelle di Indiana Jones che abbiamo già preordinato ma allora io eh rispetto a tanti collezionisti che già le hanno avute sto aspettando i Power Rangers dell'Asbro che io ho ordinato non mi ricordo quanti mesi fa eh però mh alcuni miei fornitori sono un po' più lentini nel senso che hanno riescono ad avere i prodotti un po' più tardi e quindi se ne parlerà a gennaio ovviamente perché sabato è trentuno quindi non penso che arrivi tutto domani non è difficile poi la stessa cosa vale per il discorso che facciamo poco fa per avatar perché anche io ho ordinato i pezzi di avatar ehm circa un mesetto fa più o meno e non sono ancora arrivati ovviamente solito discorso che ho fatto poco fa come Edward per Edward Cullen non ho preso tutto di avatar ho preso semplicemente eh Jake e Nightiri loro due giusto come anche perché Mauro non te voglio fare i conti in tasca di non di soldi ma di spazio ma se io prendesse di tutte le serie tutti i personaggi ci vorrebbero dieci appartamenti ma guarda io io proprio un anno fa fece un po' un conteggio generale poi è uscito il video appunto sabato mattina fece un conteggio generale di come stavo messo e c'è un solo modo per non perdersi il video sabato mattina iscriversi al canale e attivare la campanella esattamente e fece un conteggio generale di come stavo messo e già mi dissi l'anno scorso fermati perché non puoi andare da nessuna parte e poi in realtà due mesi fa trovai una un ottima occasione di una persona qua nella zona che si vendeva una vetrina io stavo proprio in emergenza e e l'ho presa sono andato a casa di questa persona direttamente con una paio di buste mie da quasi da da fabbro praticamente infatti ogni volta che vado a casa delle persone le persone mi chiedono non sempre però spesso mi dicono ma tu fai questo per lavoro perché mi vedono mi vedono subito che caccio viti cacciaviti cose che già so che cosa fare e c'è mi chiedono spesso ma tu fai questo come l'hanno smonti e smonti a caselle vai e smonti no no veramente questo lo faccio per me stesso poi me le porto a casa gente secondo me c'ha pure paura di invitarti a cena che tu te ne vai e ti porti ma scusa ma lì c'era una vetrina esatto e ricordo no e quindi alla fine ho trovato questa vetrina e l'ho aggiunta sempre dall'altra parte però veramente ora la stanza di là chiede chiede proprio perdono perché non non ce la fa più e non c'è più aria è rimasta la stanza a fianco però quindi c'è sempre un po' di spazio se lo trova il collezionista lo trova esatto 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 e quindi sì ok quindi wow rangers indiana jones poi si indiana jones poi avatar poi ci sono dei delle statiche inerenti cartoni anime one piece naruto che già ha ordinato almeno una decina di pezzi di entrambi ma credo che queste questi qua diciamo uno arriva direttamente addirittura a dicembre 2023 quindi ci vuole un po' di tempo eh sì sono diciamo preordini abbastanza lunghetti l'attesa sarà abbastanza lunga che poi come fai a fare un preordine non c'è la prima volta che faccio un preordine io con quelli di indiana jones perché mi prende male nel senso a pensare che compro una figo sì e poi devo aspettare sei mesi dieci mesi capito poi te ne dimentichi pure a te capita che te ne dimentichi no come no ti arrivano scatoloni diciamo questo che è io infatti ultimamente ho iniziato a scrivermi proprio i foglietti vedi cioè i foglietti e mi scrivo tutte le cose che urdino perché purtroppo la mia testa non ma no è che se sono tutte scadenze e spalmate in un anno come fai a ricordare tutte eh no 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 ma io lo scrivo anche perché me le dimentico proprio perché a volte mi chiamano i fornitori guarda è arrivato questo pezzo io mi fermo e dico ma quando l'ho ordinato io non mi ricordo certo a volte veramente capita perché mi è capitato anche magari di ordinare un pezzo un anno fa un anno un anno e mezzo fa e poi magari di comprarlo io in negozio e quindi poi di ritrovarmi eh sì eh sì no no ma non è eh io c'ho la per i videogiochi per i dvd blu ray c'è un'applicazione perché se no non 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 mi è capitato quante volte vado al mercatino e dico no finalmente cacchio quant'è che cercavo sto dvd porca miseria finalmente l'ho trovato poi dico vabbè per scrupolo fammelo lo sparo e già no a me ti ripeto a me è capitato col con il prodotto dello squalo della neca che l'avevo preso da due fornitori diversi e non mi ricordavo proprio infatti poi risalimmo un attimo alle vecchie conversazioni di un anno e passa fa vabbè non credo che tu avrai problemi a rivenderlo quello in più no lo vengono tutti subito nel senso il giorno dopo già perché poi sono pezzi che vanno però poi mi capito per esempio col numero 100 di bilan dog quello la colori ne ho tre ne ho tre a casa perché per sempre perché mi dimenticai che già l'ho presi all'epoca e invece poi ho capito poi da quel momento detto ce l'ho quindi se lo se lo rivedo non lo devo comprare più quindi mi capita e ci sta però dai ci sta assolutamente nel collezionismo quando uno compra tante cose di cose diverse e ci sta che poi uno si confonda e rischia di questo poi tra l'altro è il motivo è il motivo per cui tendo spesso questo poi grazie anche al canale tendo tendo spesso ad esporre tutto quasi subito perché così ho tutto un po sott'occhio e so che cosa diciamo più o meno ci sta e cosa manca veramente se sta nelle scatole è finita quando no e là poi no almeno per la testa che mi ritrovo io sarebbe la figlia mi troverai tre quattro copie è un'autodifesa no sì 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 è vero è vero assolutamente e io ti ringrazio un sacco e per questa chiacchierata insomma mi ha fatto piacere perché prima con la cosa dei nerd ci vediamo tutte le settimane lo so invece esatto che c'era c'era questa cosa che tutte domeniche sere facciamola la facciamo la chiacchierata interna e quindi era figo e poi invece adesso ci si vede di meno però insomma quando potrai il lavoro permettendo il martedì sera no 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 però esatto esatto c'è stata questa iniziativa del martedì che per me è stata una cosa ottima eh tralasciando il discorso impegni miei ovviamente personali però l'ho trovato una bella iniziativa perché appunto c'è l'occasione eh di di fare una chiacchiera non solo tra di noi ma anche con con tutti gli altri ragazzi e conoscere altre persone magari qualcuno è collezionano un'altra cosa e uno si confronta i problemi dei collezionisti insomma quindi è fighissimo per chiudere io ricordo Italy Nerd ragazzi iscrivetevi perché dobbiamo dobbiamo riportarlo a 800 800 iscritti almeno a quello che ci aveva già perché è stato veramente un sopruso ma per la questione di soddisfazione eh mica perché te non cambia la vita a te non cambia la vita a me nel senso che la gente pensa che che a chi non c'ha YouTube spiego che comincia a essere interessante se ci comincia a avere centomila centomila centocinquantamila iscritti duecentomila iscritti allora comincia a essere un discorso anche economico interessante per il resto è solo passione quindi è solo passione soddisfazione personale insomma quindi assolutamente almeno per quello e per di YouTube guarda qua eh che cosa abbiamo combinato sto sto tornando insomma quindi grazie grazie davvero grazie a te figurati grazie a te figurati